Questo è l'ultimo sabato prima dell'inizio della scuola, è l'ultimo tuo sabato di libertà, giusto, poi è finito, non è una cosa devastante, terribile, è oscena, capricciante, orrende, nefasta, vergognosa, obbrobbiosa, scioccante, abberrante, no, trova un sinonimo, un po' triste, scandalosa, eclatante, lo schifo, tragica, traumatizzante, scassa la cazzo, ora mi puoi chiedere il sinonimo a così? Detto ciò, io posso realizzare un tuo desiderio a piacere che riguarda la scuola, qualsiasi desiderio? Mi sottovalutati eh? Infatti, ce l'hai un bel sogno? Sì, ce l'hai un desiderio? Ho tanti desideri, ma uno bello proprio, sì ovviamente, per realizzare questo desiderio? Devi chiudere gli occhi, non li devi aprire però, non aprire gli occhi, non li aprire, non li aprire, sono chiusi, si stanno chiusi, li stai apriendo, hai promesso, hai promesso, si ho promesso, giura, un fao furbacchione, chiudi gli occhi, oi che li apri, non li devi aprire, ok, apri, Si ha chi spin? Esatto Metti la mano qua sopra, questa è una capuzzella, la devi allisciare, con la mano, esprimi il desiderio e quello si avvera, il potere della capuzzella Aliscia Vorrei che nella mia classe ci fosse un bel ragazzo Un bel ragazzo, come lo vuoi? Un bel ragione Se ne deve cadere la scuola Che scoppia la scuola Oggi che ho messo il letto la scuola per dormire Il letto Vorrei che il professore a posto dei voti danno i soldi Il seccione che non passa i compiti deve passare tanti guai Il professore di matematica si deve rompere una gamba Alessia deve essere bocciata ogni volta che fa scuola, cioè ogni anno Nel sabito è un debito E di fare tante cose con tante ragazze Che cosa vuoi fare? Spugno un biscotto in dolore Penso che sei stata eloquente Vorrei che si abolissero l'esame di Stato Vorrei che dopo la scuola trovassi subito al lavoro Andare a Londra Con la scuola? Sì Desidero il mio compagno di banco, Silavi Volevo fare solo educazione fisica E niente più compiti a casa Promozione senza debiti, grazie Spero che la scuola mi serva a qualcosa nella vita Spero che la provincia ci aiuta a riavire la nostra palestra Vorrei che la nuova riforma scolastica sia la migliore di quelle precedenti Che la breakdance venga inserita come materia scolastica all'interno di ogni istituto Perché tu fai breakdance? Perché io faccio breakdance Spero che quest'anno non vada a scuola per fare rap Questo è quello che cedo io per quest'anno Allish Fai rap Certo Fare un rap a volo sulla scuola Odio tutti i professori perché sono una massa di coglioni E noi siamo i ragazzi che in bagno si fumano gli spinelloni Anch'io so Anche tu che? Sono un fan della fanpage Bravo Saluta Ciao amici di fanpage Un bacio Ciao